Musica Crediamo che il museo del tessuto e in generale i musei possano essere dei luoghi all'interno dei quali si sviluppano competenze Una grande opportunità oggi è quella di incontrare un sacco di giovani all'interno del museo del tessuto di Prato E' una combinazione vincente quella di riuscire ad attrarre i giovani in un luogo dove si fa ricerca Musica Buongiorno a tutti, sono Antonio Pasquarello del Talkta Solution Center Una società dell'Epson che è un polo di ricerca al servizio della stampa digitale Musica Il TCBL è un progetto europeo che vuole iniziare a organizzare il tessile e la moda in modo diverso Musica Per i miei studenti avervi potuto partecipare in quanto ci sono dei contenuti estremamente interessanti da un punto di vista della connessione tra il mondo del lavoro e il mondo dello studio Musica L'intervento che hanno fatto oggi mi ha fatto molto piacere Vengo sempre a questi eventi perché trovo nuovi stimoli e contatti anche per il mondo Musica 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 Grazie a tutti.